Bentrovati a un nuovo appuntamento con le previsioni nel dettaglio per vivere Pesaro da Andrea Raggini di www.meteogiuliacci.it. Continua a dominare la scena all'alta pressione che sta portando ancora giornate pienamente estive su tutto il territorio di Pesaro Urbino. Anche il weekend, quindi le giornate di sabato e domenica, trascorreranno con un tempo stabile e soleggiato per l'intero arco della giornata di sabato ma anche domenica. I cieli risulteranno sereni o il più poco nuvolosi. Temperature minimi che uscilleranno tra i 16 e i 19 gradi, i valori massimi invece tra i 27 e i più 31 gradi, quindi ancora un weekend da piena estate da trascorrere anche sulle spiagge. La ventilazione risulterà debole, il mare quasi calmo. Anche la nuova settimana inizierà con il sole e temperature estive, tuttavia dal pomeriggio di lunedì la nuvolosità gradualmente andrà ad aumentare specialmente in Appennino dove sarà possibile, saranno possibili i primi rovesci. Instabilità che potrebbe aumentare soprattutto tra martedì e mercoledì con la ventilazione che aumenterà dai quadranti meridionali, il mare diventerà a tratti mosso, le temperature però resteranno pienamente estive, anzi si potrebbe guadagnare anche qualche grado appunto a causa delle correnti meridionali, ma la situazione andrà a cambiare nella seconda parte della settimana. È probabile l'arrivo della prima perturbazione di stampa autunnale, ma ne riparleremo nel prossimo appuntamento. Per i dettagli vi ricordo di guardare il sito www.meteogiuliaci.it da Andrea Raggini, buon weekend! Grazie per la visione! Grazie a tutti.